Ha guidato per anni il più grande sindacato dei lavoratori italiani, è stato sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, è uno dei più autorevoli esponenti del gruppo dei socialisti e democratici europei e con lui qui a Strasburgo gli abbiamo chiesto un check-up sulla salute dell'Unione. Vediamo. Amici ascoltatori, ben ritrovati, siate davanti ad un televisore o online, noi siamo in compagnia dell'onorevole Sergio Cofferati, un eurodeputato italiano molto noto ai nostri ascoltatori, soprattutto per essere stato sindaco di Bologna, segretario nazionale della CGL e quant'altro. Con l'onorevole Cofferati parliamo nel momento in cui l'Unione vive un momento abbastanza delicato, c'è intanto il cambio di presidenza di turno dalla Danimarca a Cipro, c'è stata questa riunione del Consiglio dell'Unione che ha fatto molto parlare. La sua opinione? Il passaggio di presidenza dovrebbe essere oramai considerato un evento fisiologico, anche se l'alternarsi di paesi piccoli che hanno un ruolo importante ma non hanno il peso e la forza di quelli grandi lascia sempre qualche elemento di incertezza che però penso anche in questa circostanza poi svanirà. La cosa più importante e più delicata invece è la fase politica ed economica dell'Europa. L'Europa sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, la moneta è assoggettata a speculazioni forti, a condizionamenti pesantissimi da parte dei mercati e manca ad oggi una volontà decisa per traghettare l'Europa verso un approdo stabile. Intendo per approdo stabile il rafforzamento sia degli assetti istituzionali che di quelli politici. Poi l'economia viene prima perché riguarda la nostra vita di tutti i giorni e dunque bisogna prendere le decisioni che servono e la priorità assoluta per quanto riguarda l'economia, so di dire una cosa, non condivisa da molti, non è fermare lo spread ma è innescare la crescita. Poi certo anche contrastare fenomeni speculativi è sempre molto importante però quello che manca in Europa oggi sono politiche di crescita condivise e la ricerca di risorse per fare politiche di crescita. Penso agli eurobondi da un lato e alla tassa sulle transazioni finanziarie dall'altro per non restare nel vago. Non c'è una decisione, non ci sono atti operativi e questo rinvia nel tempo purtroppo l'adozione di azioni che invece andavano prese con larghissimo anticipo. Nell'intervento che ha fatto la riunione dei capi di governo l'altro giorno il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha ricordato che molti dei provvedimenti che oggi sono in discussione dal Parlamento sono stati votati oltre un anno e mezzo fa a conclusione dei lavori della Commissione sulla Crisi della quale peraltro ho avuto la possibilità di far parte. Abbiamo perso molto tempo e il tempo lascia tracce profonde e difficili poi da recuperare rapidamente. Ecco parliamo della tassa sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax come viene chiamata anche se noi la decliniamo in modo leggermente diverso. Sembra partito, sembra avviato un percorso che porti alla cooperazione rafforzata, cioè siccome non tutti sono d'accordo insomma cominciamo con chi ci sta. Potrà essere una prima risposta secondo lei? Io penso di sì, la soluzione migliore sarebbe ovviamente quella di un'adozione dello strumento da parte di tutti. Però è giusto non fermarsi se qualcuno ha delle perplessità o delle contrarietà. A volte le contrarietà sono anche strumentali come abbiamo visto in tante altre circostanze. Per cui è giusto andare avanti, la cooperazione rafforzata può essere la strada. È molto importante che si parta per avere risorse da destinare poi agli investimenti attraverso la Tobin Tax. E poi sono convinto che se gli altri vedranno, gli effetti positivi alla fine seguiranno. Perché c'è qualche perplessità di carattere ideologico ancora purtroppo. E c'è anche qualche dubbio sull'efficacia dello strumento. Ma se lo strumento funzionerà e sono convinto che sarà così, poi molti cambieranno idea. Senta, onorevole Cofferati, la risoluzione del Parlamento sulla tassa sulle transazioni finanziarie è stata fatta da una sua collega di gruppo, del gruppo degli socialisti democratici europei, che è greca, l'onorevole Anni Podimata. Adesso al di là delle battute sulla Nemesi, la Grecia continua ad essere la cattiva coscienza d'Europa. Sì, non c'è stata nessuna scelta strumentale. Casualmente è toccato a una parlamentare greca istruire la materia. L'ho fatto benissimo perché Anni è molto brava. La Grecia è in condizioni molto molto difficili. Io credo che sia un errore gravissimo ipotizzare l'esclusione della Grecia dalla moneta e dunque dalla parte più importante dell'Unione Europea. La Grecia va aiutata. Vanno, credo, rinegoziate le condizioni che sono state imposte alla Grecia per gli aiuti. Perché si sta verificando in concreto il crollo di quel paese, sia sul piano economico che su quello sociale. In queste condizioni la Grecia non sarebbe in grado di rispettare gli impegni presi e in più avrebbe una condizione sociale drammatica, con effetti non prevedibili nel medio periodo. Per questa ragione credo che l'Europa debba fare uno sforzo straordinario per tenere la Grecia nel suo grembo e per cercare di aiutarla, negoziando di nuovo le condizioni per il rientro del debito. D'altro canto, diciamo la verità, l'Europa ha un po' di coscienza sporca nei confronti della Grecia perché quando la Grecia si comportava malissimo lo sapevano tutti e hanno chiuso colpevolmente gli occhi. Dunque possono porre oggi rimedio a quell'errore cercando di aiutare la Grecia e di non perdere la pestrata. Senta, Onorevole Cofferati, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto finché io sarò viva non ci saranno Eurobond, spero che si riferisca alla sua vita politica non a quella fisica, ma non c'è un po' di luogo comune in questo prendercela con la Merkel, in questo fare della Merkel un po' il baobau dell'Europa? Sì, poi noi auguriamo lunghissima vita alla signora Merkel in tutte e due le ipotesi. Poi l'anno prossimo ci sono le elezioni in Germania, è vero che si può continuare a svolgere attività politica anche stando all'opposizione, cosa che spero capiti in Germania e che anche lì ci sia un cambio di guida, dunque è possibile che la signora Merkel veda gli Eurobond, magari da leader dell'opposizione nel suo paese. Ovviamente i tedeschi hanno prospettato ipotesi, soluzioni, hanno cercato di imporre una linea politica che non condivido, ma ha ragione lei, c'è qualche eccesso nei confronti della Germania. Una linea politica non condivisa la si contrasta, la si combatta e si cerca di trovare altra soluzione, ma la signora Merkel da sola non ce l'avrebbe mai fatta, ha avuto prima il conforto passivo ma molto importante di Sarkozy, che cercava di attribuirsi dei meriti che non aveva perché sostanzialmente assecondava la linea tedesca, ma poi ha avuto un numero consistente di paesi schierate con lei. Il gioco si è rotto con l'elezione di François Hollande e dunque con un cambiamento visibile nella geografia politica dell'Europa. La Germania ha delle responsabilità, ma hanno ugualmente responsabilità a tutti coloro che l'hanno secondata, Italia compresa con il governo del Cavaliere Berlusconi. Onorevole Coifferati, io non voglio portarla in vicende di politica nazionale perché se ne parla non si preoccupa, però naturalmente la sua riflessione a proposito del diverso vento che c'è sulla Europa sembrano gli anni di una riscossa della sinistra europea dopo lunghi anni in cui invece è stata minoritaria. Secondo lei questo discorso riguarderà anche l'Italia e con alleanze di responsabilità nazionale oppure con coalizioni più dichiaratamente di sinistra? Io spero che l'Italia arrivi nella primavera del 2013 al voto con una sinistra in grado di prospettare un programma, una coalizione, anche una coalizione ampia però, su un programma definito in precedenza. Bisogna provare a rovesciare la prassi prima il programma e poi la coalizione perché è il programma che definisce anche il carattere di centro-sinistra, di sinistra, come lo si voglia chiamare delle azioni, non è che bisogna arrivare all'autodefinizione, bisogna che gli atti concreti definiscono dov'è la collocazione della coalizione o dei singoli partiti. Dunque uno sforzo comune per fare rapidamente un programma e poi la condivisione del programma porta alla coalizione. Dovrebbe essere così, non lo è mai stato, ma dovrebbe essere così. Spero che almeno questa volta si riesca ad ottenere un risultato di questa natura e allo stesso tempo poi la scelta del leader nella coalizione, il leader che meglio incarna le qualità, la figura, la capacità politica per realizzare quel programma. Un'ultima domanda, Onorevole Cofferati. Noi siamo in questo momento in una situazione di grave scontro istituzionale fra Parlamento e Consiglio d'Europa a proposito della possibilità di sospendere Schengen, insomma di sospendere in caso di bisogno, una formulazione abbastanza ambigua, la libera circolazione degli uomini e delle merci alle frontiere. È un esempio di come nelle opinioni pubbliche europee circolino umori pericolosi. Siamo in una situazione di democrazia a rischio o almeno ci sono ombre sulla democrazia europea? La decisione del Consiglio è stata pessima perché non c'era una ragione per nemmeno prospettare una decisione di questa natura. dobbiamo tener conto che il tutto nasce con la primavera araba e con il temuto arrivo di un numero consistente di persone. I fatti hanno dimostrato che era pura propaganda. Non abbiamo avuto neanche un incremento della fisiologia, della mobilità nel Mediterraneo, noi che viviamo lì. Dunque c'era molta demagogia, molta strumentalità che però ha prodotto questo danno rilevante. I nazionalismi e i popolismi in Europa stanno facendo danni seri. Spero che questa onda venga fermata. Credo che sia molto importante anche per questo lavorare efficacemente per la crescita perché le condizioni di disagio e di malessere portano molto persone alla passività. non è che diventano per questa ragione, perché stanno male, nazionalisti o esasperano i loro comportamenti. Di solito non è così. Però stanno a casa, stanno zitti, non partecipano. E il calo della partecipazione è sempre un problema per la democrazia. Sì, penso che, come diceva Martin Luther King, non debba impaurire il chiasso degli ingiusti ma il silenzio dei giusti. Speriamo che questo silenzio non duri a lungo. Noi ringraziamo l'onorevole Sergio Cofferati, che è un europarlamentare del gruppo dei socialisti e dei democratici europei, eletto in Italia nelle liste del Partito Democratico. Grazie a lui per aver trovato, fra i suoi molti impegni, il tempo di conversare con noi. Grazie soprattutto a voi per averci cortesemente seguito. Arrivederci. Buonasera.